ciao a tutti ragazzi e ragazze io sono bernick e oggi sono qui con il suo video oggi non è un video di un gioco ma un video informativo questo video qua dove uscire settimana scorsa solo che ho deciso di registrarlo appunto settimana scorsa per il motivo che troppo vi dico e tra l'altro il motivo del video del video che sto facendo adesso questo video qua probabilmente vi spiego quando farò live da qui a fianco a me c'è qualche spoiler purtroppo non farò live non farò tre live per settimana a ne far solo uno da ne alcuni giorni e che magari non ho tanti compiti non devo fare niente questo video qua non registrarlo settimana scorsa perché ancora l'orario della scuola era provvisorio e non sapevo quando facevo il pomeriggio perché nelle prime due settimane non ho fatto pomeriggio e da questa settimana qua sto iniziando a fare pomeriggio che purtroppo il pomeriggio ce l'avrò il venerdì io ho deciso di far live fin di settimana così potevo fare più ore però purtroppo non è così ho deciso di fare la live mercoledì perché è il giorno centrale della settimana così ed è anche più comodo ovviamente le live saranno sempre dalle ore 16 fino a quando voglio comunque vi avviserò sempre su instagram quando andrò in live comunque ogni mercoledì andrò in live tranne qualche magari c'è poi magari ho qualche qualcosa da fare in un post fallo comunque ogni mercoledì sarà live nei prossimi giorni vi avviserò su instagram e anche su discord ci sono i link in descrizioni con questo se ne chiamate in basso official e vi lascio anche qua il link del disco comunque basta che cliccate il link in descrizione comunque copiate il link che vi lascio qua del disco e lo iscrivete su google i video spero di farli comunque sempre è stato live farò più fatica di prima a fargli stato live perché farò solo una live lasciando magari vari giorni in cui farò farò video lasciando gli altri giorni che magari faccio live comunque purtroppo farò pochi video perché non ho tanto tempo poi sono in prima superiore e adesso vuoi capire la scuola com'è comunque i giochi sono sempre erotrack per adesso ovviamente sono sempre erotrack e cash royale e fortnite variiamo un po' e vediamo un attimo comunque ripeto vi avviserò sempre quando è live come se facendo tuttora e anche per i video come se facendo tuttora vi avviserò sempre su islam e su discord mi raccomando seguitemi e comunque live chi non sapere chi non lo sapesse ne le faccio qua su youtube e live ma le faccio sul twitch prima quando seguitemi l'altra piattaforma mi chiamo perché ti abbastanza come su instagram quindi mi raccomando seguitemi comunque per chi è interessato chi se lo sta chiedendo io come scuola faccio è l'alberiero e avrò un pomeriggio come già detto prima con quelle dubbi fatemi sapere qui sotto nei commenti voi che scuola fate che vi lascia un cuoricino comunque se volete vedere altri giochi sul mio canale sia youtube e twitch per sapere qui sotto con un commento mi raccomando così magari potrò portare un gioco che mi direte proprio voi ho già in mente un altro gioco che è molto bello per il mio schiappa il simulatore sempre stimolatore come eurozac e prevente e lo dice già il nome e simulare della polizia e poi fare tutto di più come si chiama pollice simulare se lo volete cercare come ve lo lascio qua al schermo con quel nome comunque pollice simulare è facile e ho pensato prima tanto questo tipo sui stand gaming costa pochissimo tipo 5 euro 3 euro quindi pochissimo comunque 5 euro massimo 8 euro sui stand gaming però vi consiglio molto di comprare gli occhi sui stand game perché comunque vanno gli scontano fino al 75 per cento ovviamente non tutti gli occhi però comunque è tanta roba e lo consiglio molto ragazzi questo video qui era un video brevissimo giusto informativo spero che comunque il video vi sia piaciuto era quando lasciamolo mi piace per farmi capire che avete capito e farò una live a settimana purtroppo raccomando supportatevi con un follow su un'altra piattaforma con l'iscrizione qua mi raccomando grazie di supporto condividete sia youtube che twitch e vi ricordo che se volete rimanere attivi su quando faccio live seguitemi su instagram e entrate dentro il mio server disco noi ragazzi vediamo il live o su youtube comunque questo orario qua inizierà da lunedì 4 quindi farò la live i 6 appunto di ottobre quindi mi raccomando seguitemi per supportarmi ciao ragazzi ciao 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 ciao